Ciao Bibiafili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale, oggi vi porto recensione di Le lame di Mira di Licia Troisi, scusatemi per la luce ma qui ormai fa buio praticamente dalle 4 Comunque, è il nuovo libro di Licia Troisi e sarà, da quel che ho capito, una trilogia Non so se ci saranno più libri, da quel che ho capito appunto saranno 3 per ora Appunto, La saga del dominio, il primo libro, Le lame di Mira Non so se avete visto il book haul, comunque io questo libro non dovevo comprarlo Nel senso che non era nelle mie priorità, era andata in libreria per comprare un altro libro Poi ho visto questo e per quanto mi riguarda è un book haul allucinante Cioè è troppo bello, la copertina è sensazionale In copertina c'è la protagonista Mira che però a me ricorda tanto anche Manon e il trono di ghiaccio Qui dietro il drago, Eisenworth, se ricordo male, Eisenworth E qui la mappa del dominio, che è appunto il luogo in cui ci troviamo Questo libro è uscito il 25 ottobre, è stato presentato a Lucca Comics dalla stessa autrice Mangio le mie mani perché io volevo esserci E vabbè Io l'ho letto in poco tempo, sono 384 pagine Edito dalla Mondadori, costa 19 euro, un rene Io l'ho pagato con 15% in meno della Feltrinelli e allo stesso prezzo, quindi sui 16 euro, lo trovate anche su Amazon Costa 19 euro, è fatto benissimo per quel che mi riguarda Però credo che sia un po' troppo Ma vabbè Copertina rigida Io di Diciatroisi avevo già letto ormai dieci anni fa Le Cronache del Mondo Emerso Non avevo poi letto altro perché non mi avevano fatto impazzire in realtà più di tanto Quindi non avevo letto ad esempio Le Guardie del Mondo Emerso o La Ragazza Drago, insomma, gli altri suoi libri Non li ho letti, però le Cronache mi piacquero Non le ho perché praticamente me le prestava il mio migliore amico Alle Medie È il primo anno del liceo Ovviamente ridavo ogni libro che finivo, glielo ridavo, li mi dava l'altro E mi piacque, però appunto non così tanto Però ho voluto dare una scienza a questo libro Devo dire, in realtà, in parte, soprattutto Per la sua bellezza Perché è davvero bello Poi comunque, in quel giorno in libreria ho letto meglio la trama Che avevo letto, comunque, non prestando molta attenzione Quando è uscita a inizio ottobre E leggendola con più attenzione Mi è piaciuta molto di più Soprattutto per la presenza dei draghi E quindi mi sono fatta convincere E l'ho preso E non potevo fare decisione migliore Perché gli ho dato 4 stelline Un libro che mi è piaciuto molto Per quanto riguarda Vorrei parlare innanzitutto Dello stile dell'Eletroisi Perché, poi vi parlo della trama, ovviamente L'Eletroisi si è davvero Guadagnata la mia stima Nel senso che non sono nessuno Però mi è piaciuta Molto la sua scrittura Coinvolgente È stata bravissima alla fine Nel descrivere nuovi mondi Completamente nuovi personaggi Completamente nuovi Perché in questo libro abbiamo tantissime etnie Popoli diversi Popoli diversi Un nuovo mondo Viene davvero descritto tutto quello che c'è Qui dentro In maniera molto Molto dettagliata Tutto Tutti Le città I mondi La mappa comunque ha aiutato molto Perché riuscivo a seguire i vari spostamenti Dove ci trovavamo Dove non ci trovavamo E tutto il resto E lei è stata molto brava È una trama Poi che ha moltissima Moltissima azione E la Troisi è magistrale Nel descrivere i combattimenti Perché io stessa ogni tanto Avevo paura E avevo come la sensazione Che dovessi schivare i pugni I calci E tutto il resto Quindi è stata davvero Per quel che mi riguarda Bravissima Punto a favore per questo libro È proprio la scrittura E lo stile della Troisi Descrittivo Al punto giusto Perché comunque ci devi mostrare Questo nuovo mondo E ci devi coinvolgere Negli avvenimenti In particolare nei combattimenti Che sono sempre difficili Da descrivere Lei lo fa Davvero in maniera magistrale Per quanto riguarda La trama Ci troviamo appunto In questo nuovo mondo Che si chiama Il Dominio Che ha vissuto Un periodo alquanto difficile Che ora si sta un po' Cercando di ricostruire Di porre insieme I vari pezzi La protagonista appunto È Mira Mira che ha un passato Molto difficile alle sue spalle Perché ha assistito Alla uccisione Di suo padre E di sua zia Quando aveva solo 8 anni E appunto In quel momento Ha gridato così tanto Mentre anche cercava Di scappare Come le aveva detto Il padre E la zia Che da quel momento La sua voce È appunto Un po' Diciamo Non femminile Ma anzi È come Gratta La sua voce Insomma È una voce Un po' Mascolina Non tanto femminile Perché appunto Ha gridato così tanto Quando era piccola Che era rimasta Come una ferita Nella gola stessa Lei è riuscita a scappare Purtroppo assistendo All'uccisione Prima del padre E poi della zia E ha creduto Fin da sempre Che fosse stata Semplicemente Una disputa Per il terreno In cui abitavano La terra In cui si trovavano Quindi sono stati uccisi Per quello E finiva così È stata poi Una schiava Per due anni Fin quando non è stata Salvata Da Akrab Questo guerriero Che l'ha cresciuta L'ha insegnato A combattere Sebbene anche suo padre L'ha stesse insegnando A combattere E tutto il resto È diventata Una guerriera Cazzutissima È davvero Un personaggio Bedasse Molto forte Nei combattimenti E tutto il resto E appunto È nell'esercito Di Akrab Che vuole Mettere insieme Tutto il dominio Vuole cercare Di conquistare Il dominio E di mettere insieme I popoli Le etnie Diverse fra di loro Che magari ora Sanno anche in guerra In contrasto Fra di loro E creare appunto Un dominio unito E a mira piace Questo piano Fin quando Non si rende conto Che in realtà Lei Ha sempre avuto Un dubbio Su come La sua famiglia È morta E sul perché Soprattutto Finché non viene a scoprire Appunto Che non era Una disputa Per il terreno Per la terra Ma qualcosa Di molto più scuro Che pare Uccidere Chiunque Ne sia coinvolto Quindi parte Mentendo anche Ad Akrab Sul quanto tempo Sarà via E cerca Appunto Informazioni Durante il suo percorso Incontrerà Vari personaggi Che l'aiuteranno In particolare Il drago Eisenroth Che è un drago Che Diciamo Per colpa Di se stesso Per la relazione Che ha avuto Con un essere umano È stato bandito Dai draghi stessi Quindi Non ha più Diciamo Una sorta di Non so come si dice Un branco Di draghi Ed è solo È un drago Che viene descritto In maniera bellissima Comunque Qui più o meno C'è la L'immagine Del drago E la particolarità È che ha solo un occhio E ha gli stessi occhi Il stesso colore Degli occhi Di mira Che sono appunto Rossi E i due Fanno subito amicizie E si aiutano a vicenda È un personaggio Che io ho amato tantissimo Anche perché viene narrata Anche la sua storia E mi ha fatto Molto emozionare Non solo il drago Ma anche Killen Un mago Perché in questo libro È presente anche la magia Comunque ci troviamo In un mondo fantasy In un libro fantasy Magia che è divisa Fra coloro che vogliono Praticare la magia In un modo Magari non troppo corretto Coloro che vogliono Praticare la magia In un modo Un po' più corretto Ma in realtà Neanche tanto Dove si trova appunto Killen Che appunto Si rende conto Che in realtà Non gli piace Ciò che i maghi Stanno facendo Chi stanno seguendo Che magari potrebbe essere Un impostore Colui che stanno seguendo Tant'è che Decide di andare via Ciò che ho amato di Killen È che appunto Ha forza Coraggio Forza anche nella magia Voglia di imparare Soprattutto voglia Di cambiare le cose Molta voglia Di cambiare le cose Perché si rende conto Che così Non vuole vivere Cioè non Ha alcuna intenzione Di continuare A vedere Le cose così come stanno Vuole cambiare il mondo E le cose Lo fa anche In questo viaggio Con Mila Perché in realtà Hanno a un certo punto Nella storia Un obiettivo comune Quindi Si ritornano a viaggiare insieme Soprattutto si vede Come Killen Si affezioni Fra virgolette A lei Comunque come compagna Di viaggio E come persona Che si scoprirà Di essere Perché appunto Mila Ho detto È un personaggio Molto bedass Guerriera Cazzotissima Lei pensa Che non deve tenere A nessuno Non deve affezionarsi A nessuno Nessuno deve vedere Più le sue debolezze In realtà Nasconde Dolcezza Sensibilità Paure E le mostra Raramente Forse una volta sola Davanti a Killen Mostra quanto Lei può essere fragile E nasconde Anche un segreto Molto importante Ovviamente I fini della trama Un altro personaggio Che ho apprezzato È Marjane O Merjane Spero di averlo pronunciato bene Che è la più piccolina Dei tre Viene salvata da Mira Perché anche lei Era una schiava E anche lei Ha molta forza Pur essendo molto giovane Ha forza di imparare A difendersi da sola E voglia di cambiare Il suo destino Questi quattro personaggi Alla fine appunto Mira, il drago Killen e Marjane Sono quelli che mi sono piaciuti di più Ovviamente sono presenti Anche altri personaggi Fra cui I Acrab I altri cattivi Della situazione Che non vi sto a dire Ovviamente E tutti i popoli Ed etnie Che incontriamo Man mano E che in qualche modo Aiutano Anche no Mira È la compagnia Di viaggio Così come altri maghi E mi è piaciuto Molto È un libro Che appunto Mi è piaciuto tantissimo Gli ho dato quattro stelline È un inizio spettacolare È finito Diciamo In un modo assurdo Perché Non è un cliffhanger Non succede solo una cosa Che ti fa dire Oh mio dio Voglio sapere No Due Due cose Finisce Finisce con due cliffhanger Licia Truisi È un genio Nel fare questo Perché Sono due le cose Che finiscono con Oh mio dio Alla fine del libro E tu ovviamente Devi aspettare l'altro Che uscirà Boh L'anno prossimo E quindi È bellissimo È molto È davvero pieno Di azione Combattimenti Avventure L'amore Praticamente Non è assolutamente presente Comunque La nota romantica Non è per niente presente Mi è piaciuto Perché appunto È presente Molto Ciò che è presente Alla fine In un fantasy Che è L'azione L'avventura È il voler cambiare le cose Questo è comunque Ciò che È presente In tutti e quattro i personaggi In tutta la storia È il voler Capire Come stanno andando le cose È il voler cambiare Il mondo Il dominio E tutto quello che c'è qui dentro E mi è piaciuto molto E quindi Ovviamente Lo straconsiglio Fatemi sapere Se l'avete letto Se vi è piaciuto Comunque io credo Che sia un inizio Di una saga Che mi piacerà Tantissimo E io ho bisogno Di sapere Ne ho bisogno Davvero Quindi Spero che la mia recensione Più o meno Vi sia piaciuta Credo di aver detto Più o meno Tutto ciò che mi è piaciuto Non c'è niente Assolutamente Che non mi sia piaciuto Ci sono i vari capitoli In cui seguiamo Tutti i personaggi Ora Mira Ora Killen Ora Marjane Ora il Drago Ora altri personaggi Di cui non vi posso parlare E seguiamo la storia Appassionandoci A tutto quello che sta succedendo Almeno a me è successo così Fatemi sapere Se è successo anche a voi Se l'avete letto Se volete leggerlo Insomma Spero che vogliate Farlo Perché merita davvero Se avete altre domande Sul libro Fatemelo sapere Qui nei commenti Vi ricordo che qui sotto Ci sono anche i vari link Dei miei social L'iscrizione al canale L'affiliazione Amazon E tutto il resto Vi lascerò il link Per l'acquisto su Amazon E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao